Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, andiamo avanti con The Sims 4 lupi mannari e appunto disperdiamoci negli urulati del bosco e vedremo che cosa combinerà il nostro Albert in questa nuova puntata. Io vi auguro buona visione, come sempre se siete nuovi vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti. Noi ci vediamo tra pochissimo in partita. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo esattamente dove ci siamo lasciati, no ho sbagliato, e praticamente è venuto fuori la notifica che Albert ha superato indenne la notte di luna piena, che è esperienza straziante, si spera che abbia imparato qualcosina sull'essere un lupo mannaro. Nel frattempo ciò che ci rimane da fare per la prima parte della scuola dell'aspirazione di vita è leggere tre libri sui lupi mannari. Nel frattempo abbiamo guadagnato grande lupo cattivo, il demone interiore è stato sguinzagliato. Non solo questo sim guadagna furia ulteriore quando è furente, ma dovrà anche lottare contro altri sim per ottenere il livello di aggressività. Se il lupo chiede di entrare è meglio dire neanche per tutti i peli del mio mentino. Lupo notturno, i lupi notturni preferiscono dormire di giorno e guadagnare furia quando si discostano da un ciclo di sonno notturno. Ok, ok, ok. Va bene dai, vamo a scuola. Va bene, lasciamolo andare a scuola, ci vediamo appena la scuola è finita. Eccoci qua, sono tornati da scuola per l'appunto e dunque Bonnie non è la prima studentessa da sette della scuola e sicuramente non sarà l'ultima. Magari il fine settimana potrebbero... Allora andiamo a mangiare, andiamo a divertirci un po' e poi andiamo a dormire, la nostra sorella zombie. Lui invece ha bisogno di mangiare. Viaggiamo, viaggiamo per i fatti nostri. Lui, Rory. Ok, ma che cadene non ti fiche piena, va bene. Scusate, ho perso un attimo la testa perché c'è chi si trasforma in un modo e chi nell'altro. Allora, Lou, Rory e la nostra Sara. Facciamo una presentazione rispettosa per favore con Sara che abbiamo unulato mezzanotte e praticamente ci ha fatto fare danni di continuo. Per sfidare il tiro alla fune è necessaria la padronanza della trasformazione. Racconta esperienze con i lupi mannari, cioè con te, praticamente. Mi piace questa Sara, mi piace. Chiedi dei branchi di lupi mannari e vediamo un po' che ci dice lei. Oh oh, l'abbiamo trasformata noi, lei. Se non avete visto la puntata precedente vi invito ad andare a guardarla perché io e la mia appunto sfuriata nel guardare, nel provare troppe cose. In più è partito un loop di unulati che praticamente non finiva più e quindi automaticamente abbiamo fatto persino troppi danni. Oh, non faccio parte di alcun branco per ora. Non so ancora quale faccia per me. Insomma, o mi metto d'impegno per controllare i poteri dei lupi mannari che ho, oppure affronto il mondo come fiero e impudente membro dei lupi mannari. Comunque sia, è difficile e non so ancora se ho le spalle abbastanza larghe per farcela. Che sono sti mal di testa che ha? Allora, leggiamo un po' qualcos'altro a riguardo dei lupi mannari. Qualcosa in più, no, eh? Ma mai c'è così poca roba? Il lupo della porta accanto. Abbiamo già fame. Ciao, Simon. Ci guardi strano anche tu, eh? Vabbè, perdonate, insomma, gli spazi probabilmente sono pochi. Il branco fremeva dalla trepidazione. Il lupo è appena arrivato e era determinato a sfidare l'alpha. Se avesse vinto, che significato avrebbe avuto per lei e per loro? Sono qui tutti gli incantatori, vedo, e non solo. Le pagine sembrano dense di passaggi scritti in una lingua indecifrabile. L'unica cosa che Albert riesce a distinguere sono alcuni simboli che ricordano la luna. Forza, Albert, datti da fare. Ci manca semplicemente questo. Allora, io non so adesso quanti di voi appunto hanno acquistato i lupi mannari, dove siete arrivati, se avete già scoperto tutto, molto probabile di sì. Ripeto, io sono rimasta molto indietro. Niente, se avete qualcosa da consigliarmi, da fare per non appunto combinare troppi danni col nostro Albert, scrivetemelo pure nei commenti, oppure appunto se quello che avete provato e fatto voi, ecco. Se appunto vi siete resi parte di qualche branco, oppure siete rimasti i lupi solitari. Ginger non poteva fare a meno di guardare fuori dalla finestra della cucina. Lui era di nuovo lì. Intanto intendo affacciare il prato, come ogni giorno alle 15.04 precise, a torso nudo. Faceva particolarmente caldo. Mi fa ridere l'era che gira in quella maniera. Faceva particolarmente caldo e il sudore gli imperia il collo e le spalle e ogni goccia che lentamente gli scendeva giù per il corpo rimarcava i contorni di ogni suo muscolo. Ginger sentiva di avere la gola asciutta e alla lupa dentro di lei si risvegliò implorandola di uscire a incontrarlo. Wow, mi sembra quasi un film order. Potrebbe esserci dell'altro da scoprire se Albert rileggesse il libro. Rileggiamo il lupo della porta accanto. Ok, Billy è tornato a casa. Abbiamo sbloccato l'epifania lunare. Ora Albert può iniziare a decifrare gli strani segni riportati ai margini dei libri sui lupi mannari. Quale nuova coscienza attende di essere scoperta ai margini dei libri sui lupi mannari? Va bene, Ginger non poteva fare a meno, eccetera, eccetera. Albert è riuscito a scatenare la propria belva interiore e crogelarsi alla luce lunare. Un secondo. Albert ha completato la propria iniziazione al lupo mannaro. È ora di che inizi il nuovo capitolo del suo viaggio di lupo mannaro. Quali opportunità gli riserva il futuro? Emissario collettivo. Arruolati negli amichevoli ranghi del collettivo di Moonwood. Rinnegato dalle zanne selvatiche. Mostra a tutti chi comanda con le zanne selvatiche. Lupo solitario. Diventa il lupo mannaro più forte e spaventoso per conto tuo. Cercatore di cure. Cerca la cura per continuare a vivere da sim normale. Allora, l'ultima la escludo. Io vorrei provare con il rinnegato delle zanne selvatiche. Oppure il lupo solitario. Proviamo con il lupo solitario. Vediamo un po' che cosa ci fa fare. Poi magari possiamo provare serenamente le altre. Spero. Un branco non potrebbe che ostacolarlo. Albert ha deciso di diventare un lupo solitario. Ok, lupo solitario in bagno. Bravo. Ok, allora. Volevo andare a vedere un po' la luna. Dov'era pure qua. Ammiriamo la luna. Dobbiamo poi allenare ancora tantissime cose. La forza fisica. Dobbiamo vedere la questione delle rame. Dobbiamo vedere appunto ancora tutta la questione delle rame. Dobbiamo comunque fare amicizia con gli altri lupi. Sviluppare l'attività fisica. E poi appunto ne abbiamo ancora di cose da da dover una stampa da collezione lunare è stata inserita nell'inventario di Albert. Vediamo un po'. Wow. Luna di Sixam. Punti. Ne abbiamo uno. Come dicevo appunto volevo sviluppare l'olfatto. Poi anche di questo non so appunto cosa si possa cioè non ho non ho ancora mai giocato proprio. Serenamente sono le prime partite che faccio comunque lupi mannari e non non conosco quindi non so se poi si possono sviluppare se si possono sviluppare tutte appunto le capacità ma non credo. Vedremo. Ho poi voluto provare la questione della del lupo solitario come appunto scelta anche perché Albert è un adolescente quindi automaticamente ne abbiamo ancora da fare. e poi 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 vediamo un po' se trovo dove sta Greg io ovviamente mi perdo comunque si eh con la luna con la luna così abbiamo una luna gibosa no gibosa calante sì appunto questa luna è sicuramente sicuramente eh molto più luminosa qualcuno sa dove sta Greg qui sta Greg un po' mannaro ah intanto andiamo qua noi ora da bravi furbi ci facciamo un pisolino davanti a casa di Greg vediamo un po' che succede io lo ammazzo se lo tratto così allora facciamo eh dormi al chiaro di luna guardate che carino no veramente e soprattutto siamo davanti a casa di Greg abbiamo un po' di occhi che ci servono eh dai dormi tu anche fuori casa stanotte come le prime notti in cui venivi qui a gironzolare al bar ah oh non ho guardato l'aspirazione che cavolo dobbiamo fare sale di livello diventando apicale raggiungi il livello conclusivo dell'evoluzione dei lupi mannari per ottenere la vita eh allora raggiungi il livello conclusivo dell'evoluzione dei lupi mannari per ottenere la piena eh padronanza del loro stile di vita mi devo studiare cosa vuol dire scatena la belva è ora che Albert inizia a sfoderare zanni e artigli incanalando la propria belva interiore per riuscirci può rompere ehm o graffiare o graffiare gli oggetti circostanti oppure provare a ringhiare ululare aggressivamente o intimidire ferocemente un sim tutte cose che non abbiamo scelto allenati a combattere con dei lupi mannari dimostra a tutti chi è il lupo mannaro più forte della cittadina allenati a combattere con un lupo mannaro con cinque lupi mannari distinti per sfoggiare la bravura nel tuo nel combattimento di Albert sconfiggi Greg in una rissa tra lupi mannari Greg ha di sicuro una certa reputazione e senza dubbio non gli è consentito essere più spaventoso di Albert sfida Greg a una rissa tra lupi mannari ed emergi vincitore oggi non credo proprio che sarà così però indagliamo sul cartello eh certo adesso siamo felici per la prima volta dopo 24 ore vediamo un po' cosa ecco cosa succede marchiamo il territorio unuliamo tenta di distrarre tenta di comunicare no che storia annusa e presentati stiamo diventando amici di Greg no sto facendo al contrario mi chiedo mi chiedo scusa vado contro l'una proprio aggressività travolgente no 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 lupo mannaro racconta un'esperienza sui lupi mannari potenziamolo il fatto chiedi il regalo di Greg di Greg oh oh cosa ho fatto per aver ricevuto il regalo di Greg Albert non si sente di avere il pieno controllo del proprio fisico doveva essere stato morso da Greg aggressività travolgente per i temperamenti del lupo mannaro andiamo a caccia di cibo non so cosa sto combinando seriamente spero che non arrivi a durare troppo questa puntata anche se insomma è stata particolarmente guardate ditemi se è possibile vabbè dove sei andato a caccia di cibo giustamente mi perdo sempre certe scene che non andrebbero perse uffa e quelle che noto ovviamente sono sempre le più assurde e ridicole sta salendo il divertimento sta scendendo il divertimento la furia è al top albert è tornato con della carne fresca che ha trovato dove caro dove marchiamo il territorio dato che ci abbiamo fatto andiamo a farci una doccia ce la facciamo fare una doccia no così si se clicchi solo sul sul bisogno allora te lo manda se no se clicchi sulla doccia è rompi unuliamo vediamo un po' dunque la carne fresca ce l'abbiamo e adesso ce la mangiamo anche come si fa a mangiarsela vabbè uno vediamo se la mangia no non la mangia ripeto sono tutte sperimentazioni mai provate eccoci qui nuovamente a posto dunque ok ragazzi per salire di livello ovviamente dobbiamo continuare a guadagnare punti lupo mannaro annusa qui ecco lupo mannaro scava nel terreno vediamo che trova coperchio di vaso degli incantatori lunari vieni qua vabbè poi lo facciamo che tornava casa logicamente lupo mannaro annusa qui voglio vedere come compare guardate come compaiono lupo mannaro scava nel terreno si sembro sembro molto robotica ed efficiente lo so però vi ripeto per la cinquecentesima volta è la prima volta che la gioco così il diario di Gregorius Ludwig dobbiamo leggercelo assolutamente mi manca finchwick i luminosi simboli lunari lungo i margini della pagina narrano una storia oscura che Albert riesce a decifrare solo grazie alla propria epifania lunare è un racconto di tradimento e incantesimi falliti di duplicazione dopo che un incantesimo sovraccarico rese permanente un gruppo mutato di cloni di incantatori i duplicati si ribellavano ai creatori mordendoli con le proprie zanne bacchettarono con gli incantatori e il loro plasma magico accrescendo la propria forza ma senza mai placare la propria sete ho sempre saputo che il cuore di avelina appartiene al cielo notturno lo so fin dal giorno in cui ci incontrammo a glimmerbruck la corteggiai con la poesia della luna e delle stelle e ora è ironico ripensare a quei giorni dopo ciò che siamo diventati le nostre forme sono intrecciate con la luna stessa al contrario di noi forse il destino sapeva che eravamo destinati a stare insieme il destino deve avere qualcosa di magico sembra un filo conduttore tra tutte le cose ok gli stili di vita dopo li andiamo a vedere potrebbe esserci dell'altro da scoprire se albert rileggesse il libro dunque dove l'hai messo il libro dimmi che ce l'hai nell'inventario si allora direi che andiamo a casa perché è molto triste sensazione di sofferenza adesso nella prossima puntata rileggeremo il libro anche se sinceramente sono molto curiosa ma so che già in questa ho combinato altri tanti altri tanti altri scombussolamenti di tutto e di più e quindi nella prossima puntata rileggeremo il libro cercheremo di andare avanti e sono molto 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 curiosa e contenta di farlo grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto se siete nuovi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti io vi auguro buona serata e ci vediamo nella prossima puntata ciao ciao